Il percorso è stato molto duro, eppure sei qui a costruire questa magnifica famiglia. A che stai pensando? A una cosa che ha detto il piccolo B. Ha detto, papà, tu non hai paura di niente, ma io ho paura. Paura di perdere le persone che amo. Dominic Toretto, fra poco conoscerai a fondo la paura. Ti sei costruito una bellissima vita, piena di amore e di famiglia. Io non ho potuto averla. Sei stato tu a rubarmela. Il mio futuro. La mia famiglia. Ma ora, io distruggerò la tua, pezzo per pezzo. Farà di tutto per trovarti. Scappa! Qual è il piano, Dom? Non lo so più. Uno di noi potrebbe non tornare. Ma dobbiamo combattere. Mai accettare la morte quando c'è un debito di sofferenza. Sta arrivando! È una trappola. Vuole farci a pezzi. Vincere era solo vincere. Correvamo per il rispetto. Oggi corro per fermare il bagno di sangue. C'è un problema quando si ha una famiglia così grande. Come fai a scegliere chi salvare? Corriamo! Sai ancora a guidare? Tu che dici? Inizia lo spettacolo. È ora! Tra simili ci si riconosce. Vengo a prenderti. Arrivano! Non potrai mai distruggere la mia famiglia. Dom! Buongiorno, Stellina. Non è possibile. La mia famiglia è faccia. Ma che vuole. Ma che vuole là si fo southeast. Ma che vuole.